Salve a tutti. In questo video vorrei parlarvi di una gaffa a mio parere ridicola, fatta dai TDG su un personaggio e un avvenimento storico, che poi hanno strumentalizzato. Ma prima di iniziare il video, anche questa volta vorrei invitarvi a guardare il video fino alla fine, iscrivervi, mettere like, condividere e guardare anche gli altri video. I testimoni di Geova considerano Michele Serveto un eroe per essere morto per aver negato la Trinità. Lo elogiano come uomo erudito, che conosceva benissimo la Bibbia e le lingue originali, chi cercava la verità, in un periodo in cui leggere la Bibbia era proibito, e cose del genere, vi lascio i link in descrizione. Per coloro che non lo sapessero, egli fu messo a rogo nel 1553 a causa delle persecuzioni di Giovanni Calvino, il quale aveva instaurato un regime teocratico a Ginevra, in cui imponeva il suo credo protestante. In questo momento non ci interessa ciò che dice il calvinismo o il protestantesimo in generale e nemmeno delle differenze con i testimoni di Geova o i cattolici. Facciamo delle precisazioni. Michele Serveto è vero che negava la Trinità, ma non nel senso che intendono loro, e è vero che diceva che in Dio secondo lui non c'erano tre persone. Ed è vero che nemmeno lo Spirito Santo secondo loro era una persona divina. Ma ora vi spiego dove sta la differenza con quello che dicono i TDG, visto che Wikipedia lo riporta e posso metterlo senza violare il copyright. Vi riporto letteralmente ciò che Serveto stesso ha detto nel De Trinitatis Erroribus. Io non separo Cristo e Dio più che una voce è separata da chi parla e un raggio di luce dal sole. Cristo è il Padre come la voce è chi parla. Egli e il Padre sono una stessa cosa, come il raggio e il sole sono la stessa luce. Per essere chiari, in alcuni passi del Nuovo Testamento viene detto che Gesù era la parola, o meglio, il Logos, del Padre. Quello che Serveto ci dice è che non puoi separare la voce dalla persona a cui appartiene. Infatti dire che le mie parole affermano qualcosa equivale a dire che io affermo qualcosa. Cioè, per Serveto, Gesù è Dio, ma anche lo Spirito Santo è Dio, e che si tratta di un'unica persona e non di tre persone distinte. E diceva chiaramente di non essere d'accordo con Ario, il quale sosteneva che Gesù fosse inferiore al Padre, anche se dalle sue parole si intende che Ario credesse che Gesù fosse solo uomo. Mentre in realtà lui sosteneva che fosse un Dio minore, come i TDG. Quindi i TDG dovrebbero elogiare Ario. Ma su questo vorrei fare un video a parte, appena ho il tempo, perché anche su questo argomento c'è da ridere, anche se ci sarebbe da piangere. Quindi Serveto è vero che era contro la Trinità, perché negava che Dio fosse in tre persone, ma perché per lui, grosso modo, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono la stessa persona, senza alcuna distinzione. Lo Spirito Santo è l'azione di Dio nel mondo, in questo senso lo Spirito Santo non è una persona divina, perché la persona divina è una sola. Quindi Serveto non negava la divinità di Cristo e nemmeno quella dello Spirito Santo, ma aveva un'ipotesi diversa rispetto a quella trinitaria classica. Questa posizione era simile a quella dei modalisti, i quali sostengono che Dio assumerebbe come delle maschere diverse a seconda delle circostanze. Cioè il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ma Dio sarebbe sempre uno solo. Non è esattamente la posizione di Serveto, perché per quest'ultimo Gesù sarebbe un uomo divinizzato da Dio che avrebbe la stessa sostanza divina di Dio stesso. Invece la Trinità sostiene che anche se sono tutti e tre della sostanza divina c'è una distinzione fra le tre persone, ma questo richiederebbe una spiegazione dettagliata e approfondita. Ora non mi interessa spiegarvi chi ha ragione o torto, ma semplicemente farvi notare l'errore micidiale che hanno fatto i TDG, nell'attribuire a Michele Serveto lo status di eroe e martire per essersi opposto alla Trinità dopo aver letto la Bibbia, quando lo stesso Michele Serveto la pensa in modo completamente opposto a loro. Tutto questo perché secondo loro era proibito leggere la Bibbia per evitare che la gente scoprisse quella che per i TDG è la verità, ma loro lo sanno benissimo che senza le pubblicazioni che danno l'interpretazione del corpo direttivo le persone possono non arrivare alle loro stesse conclusioni. Infatti Lutero che tradusse la Bibbia in tedesco non era certamente antiterenitario, giusto per fare un esempio. In conclusione, la strumentalizzazione di Michele Serveto da parte dei testimoni di Geova è priva di fondamento storico e teologico. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione, alla prossima!